I titoli Pavone, morta una donna di 84 anni investita sulle strisce, Ivrea in comune il registro per il testamento biologico, Rivarolo dopo il commissariamento torna il consiglio dei ragazzi, attualità ad Ivrea e Rivarolo in marcia contro il terrorismo e poi il Tg Amici Animali, gatti di Piazza Olivetti Alessolo, la ricerca e gli appelli. Gentili telespettatori, benvenuti a questa nostra edizione del Tg, Maria Elena Comingo, 84 anni, è stata investita ieri sera sulle strisce pedonali a Pavone, a poca distanza da casa ed è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'investitore, un uomo di 82 anni, ha sostenuto di non averla vista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ivrea. L'incidente nel tardo pomeriggio di ieri anche a Rivarolo all'incrocio di via Favria con strada comunale della Crosa. Una forfiesta con a bordo due ragazze e un ragazzo allo stop di strada della Crosa non ha visto sopraggiungere da Favria una coppia di ciclisti e al momento di mettersi nella strada principale ne ha investito uno. L'impatto è stato inevitabile e il ragazzo alla guida della bici è caduto rovinosamente a terra finendo a ridosso del muro dell'abitazione dell'angolo della strada. Immediati soccorsi da parte dell'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo che dopo aver messo in sicurezza il giovane l'ha trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Quarnier. Per lui, per fortuna, solo diverse contusioni. E' stata disposta invece l'autopsia della giovane mamma trovata morta nel suo appartamento di Settimo Torinese con un coltello conficcato nel petto. Ad eseguirla il medico legale Mario Postoli, incaricato dalla procura di Ivrea. Al momento l'ipotesi più accreditata, secondo gli inquirenti, resta quella del suicidio. La donna che soffriva di crisi depressive è stata trovata morta, la porta chiusa a chiave dall'interno dove era tutto in ordine. I carabinieri sono anche tornati nell'alloggio che è stato sequestrato a scopo precauzionale per effettuare gli ultimi rilievi del caso. A trovare la ragazza a 26 anni è stato il cognato, preoccupato perché la giovane non era andata a prendere il figlio a scuola. Dall'estero, dove lavora, sta rientrando anche il marito della vittima. Ancora un rinvenimento di armi a Leini da parte dei carabinieri, il terzo in pochi mesi. Nei guai sono finiti Biagio De Claudi, nomade sinti di 41 anni, di Chivasso, e Claudio Narciso, 54 anni di Borgaro, che secondo gli inquirenti potrebbero essere gli autori di rapine a furgoni, portavalori, banche e gioiellerie di mezza Italia. Gli inquirenti sono al lavoro con gli esami balistici per scoprire se le armi sequestrate, un vero arsenale di pistole e fucili mitragliatori che formalmente appartenevano ad un agricoltore di 61 anni e a un operaio 44enne, entrambi di Leini, siano state utilizzate per compiere dei delitti. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato i nove esponenti politici imputati al Torino nel processo BIS per lo scandalo delle spese pazze degli ex consiglieri regionali del Piemonte. Del resto la stessa procura di Torino aveva chiesto la soluzione di tutti e nove gli imputati. Secondo i PM Enrico Agabetta e Giancarlo Avenatti Bassi, il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo. In sostanza, viste le modalità con cui si svolsero gli episodi contestati, non è emersa la consapevolezza da parte dei consiglieri di un utilizzo illecito dei fondi pubblici. E negli ultimi giorni ignoti, spacciandosi per dipendenti del Consorzio in Rete di Ivrea, stanno chiedendo somme di denaro in diverse località del Canavese e a diverso titolo. Il Consorzio fa sapere che nessuno è tenuto a chiedere denaro per suo conto per qualunque motivo al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Chiunque sia avvicinato quindi da persone che a vario titolo chiedono denaro a nome del Consorzio, lo segnali immediatamente al Consorzio stesso e alle forze dell'ordine. Un consiglio che vale ovviamente per tutti i casi nei quali qualcuno viene avvicinato da chi chiede denaro o chiede di controllare denaro o chiede di entrare in casa per controllare acqua, luce, gas e quant'altro. Una telefonata alle forze dell'ordine può evitare spesso una truffa e spiacevoli conseguenze. E poi anche il Comune di Ivrea si è dotato di un registro per il testamento biologico. L'istituzione è stata approvata dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione Politiche Sociali e Sanità, presieduta da Erna Maria Restivo insieme all'Associazione Luca Coscioni ed alcuni membri della Chiesa Valdese. Oltre 130 comuni in Italia hanno istituito il registro in attesa di una legge su questo tema che non è ancora stato affrontato a livello nazionale. Due sono le finalità. Una è pratica, serve a mettere per iscritto e in anticipo le volontà della persona. In secondo luogo serve a dare un forte segnale politico per promuovere una cultura di profondo rispetto nei confronti dei diritti sanciti dagli articoli 13, la libertà personale inviolabile e 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo della Costituzione italiana. Retornato a Rivarolo il Consiglio Comunale dei Ragazzi dopo due anni di interruzione a causa del commissariamento della città. L'Assemblea dei Ragazzi ha eletto Sindaco Sofia Ervas della Quinta C, nipote di un ex dipendente comunale per anni custode del cimitero cittadino. Nuotatrice provetta, ha partecipato e ha vinto anche diverse gare. Sofia ha voluto dedicare questa sua elezione alla vittoria ai suoi compagni di classe. Emozionata, ha indossato la fascia tricolore ringraziando i consiglieri che l'hanno votata e ha illustrato il suo progetto che consiste nella realizzazione di un nuovo parco giochi in legno nel parco del Castello Malgrà. La prima uscita ufficiale del giovane sindaco è prevista in occasione della marcia silenziosa per la pace che si terrà domenica. Gli adulti prendono una decisione che riguarda in qualsiasi maniera hai il diritto di esprimere la tua opinione e gli adulti devono prenderti sul serio. Ritorna dopo il periodo di commissariamento il Consiglio Comunale dei Ragazzi? Sì, esatto. Dopo il periodo di commissariamento ritorna finalmente e la nostra amministrazione è davvero contenta di poter ripetere questa esperienza che è stata un'esperienza positiva negli anni precedenti al commissariamento e speriamo che possa rivelarsi ancora più positiva in questo momento, in questo periodo. Oggi prima seduta, elezione del sindaco, come procederà poi? Verranno proposte i progetti? Cosa accadrà? Sì, in questa seduta i ragazzi già in linee molto generali presenteranno i progetti ai quali hanno pensato nel corso di questi mesi preparatori e questi progetti poi verranno analizzati dalla giunta e dalla maggioranza e poi sicuramente verranno portati a termine. Vengono date delle linee guida ai ragazzi oppure arriva tutto da loro? Sì, a differenza degli anni passati, questa è stata un po' la novità, sono state date delle linee guida ai ragazzi che in realtà erano già specificate da regolamento, cioè gli ambiti in cui i ragazzi possono e devono poi impegnarsi appunto a fare i loro progetti. Secondo queste linee guida i ragazzi hanno elaborato anche, aiutati dalle insegnanti, i loro progetti e sì, quindi sono attinenti a determinate linee guida che sono poi quelli dei giochi, dell'area delle scuole, quindi una serie di argomenti che interessano i ragazzi e i bambini in generale. Queste delibere verranno comunque tenute, archiviate, anche quelle relative ai progetti non realizzati poi? Sì, certo, si spera che non ce ne siano i progetti non realizzati. Comunque sì, tutte queste delibere verranno poi archiviate e un consiglio comunale a tutti gli effetti, anche se nel piccolo e quindi tutte le delibere verranno archiviate, verrà verbalizzato tutto e si farà nel piccolo quello che si fa nel grande, insomma. Quello che concerne i progetti rimasti in sospeso dall'ultimo consiglio comunale dei ragazzi? Valuteremo anche quelli, anche questi progetti appunto verranno valutati, verrà valutata la loro fattibilità e di conseguenza poi si prenderanno le decisioni. Non tutto è ancora deciso, magari ci saranno dei progetti che saranno simili a quelli che verranno esposti dai ragazzi oggi e quindi chi lo sa potrebbe darsi che oltre a questi progetti possano venire riabilitati anche dei progetti passati. E nello scorso mese di dicembre si sono tenute anche le lezioni del primo consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Ivrea tra gli studenti che frequentano le ultime due classi delle scuole primarie e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Mentre per regolamento potevano essere eletti solo i frequentanti delle classi quarta e quinta della primaria, nell'ambito del percorso di cittadinanza attiva sono stati coinvolti anche i loro compagni delle classi terze che hanno potuto così partecipare attivamente alle elezioni dei futuri consiglieri. Le elezioni hanno visto una forte partecipazione, l'attivo coinvolgimento di un elevato numero di alunni e di docenti nelle scuole. Sul totale di 955 studenti aventi diritto al voto, più del 95% sono stati gli allievi votanti per un totale di 909 voti espressi. 20 gli studenti eletti, 4 per la scuola media Arduino, 4 per la scuola media Falcone, due per ogni scuola media partecipante. Il primo consiglio delle ragazze e dei ragazzi di Ivrea si svolgerà martedì alle 17.30 nella sala consigliare di Ivrea. Due manifestazioni contro il terrorismo dopo i fatti di Parigi e il massacro di Charlie e Bo e contro ogni forma di violenza. La prima questo pomeriggio ad Ivrea che vedrà marciare fianco a fianco comunità cristiane e islamiche del Canavese. Non ci fanno paura perché noi stiamo insieme, lo slogan che accompagna la manifestazione di Ivrea, in programma alle 19 in Piazza Ferruccio Nazionale. Hanno aderito alla manifestazione, tra gli altri, il Centro Culturale Islamico di Ivrea, l'Associazione Immigrati Magrebini, Pax Christi e il Centro Migranti della Diocesi e Lampi. La seconda a Rivarolo invece domenica sera con una fiaccolata silenziosa che partirà alle 17 da Piazza Carise di fronte all'ufficio postale per attraversare poi il centro storico della città. Una marcia contro ogni forma di terrorismo promossa dal comune di Rivarolo di concerto con le comunità islamiche del Canavese occidentale, l'associazionismo laico e cattolico e la società civile. La CTS, azienda che progetta e sviluppa macchine per il settore bancario e occupa circa 250 dipendenti nei due stabilimenti di Ivrea e altre 150 persone nelle aziende dell'Indotto, è stata acquistata dal gruppo statunitense Arca che già da due anni collaborava con CTS. L'operazione, resa nota dalla FIOMCGL, è finalizzata l'integrazione delle attività delle due aziende al loro sviluppo, in particolare proprio per il settore che riguarda le banche. E poi manca solo il benestare dell'ufficio scolastico regionale per poter iniziare a raccogliere le iscrizioni del nuovo liceo scientifico sportivo di Ivrea. Sarà il terzo istituto della provincia di Torino, una grande opportunità quindi per i ragazzi canavesani che non dovranno allontanarsi troppo da casa per seguire le proprie attitudini. Lo comunica lo scientifico Antonio Gramsci di Ivrea che ha già avuto il benestare della provincia di Torino e della regione Piemonte. E da oggi in Piemonte è più conveniente per i datori di lavoro assumere con contratto di apprendistato i giovani che vogliono conseguire un titolo di studio lavorando. Questo protocollo credo sia un esempio importante di come le parti datoriali e le parti sociali hanno, e il sindacato ovviamente, hanno lavorato insieme partendo da una sperimentazione che era stata avviata in Piemonte, ovvero la possibilità di acquisire una qualifica o un diploma e quindi parliamo di ragazzi e ragazze minorenni, la possibilità appunto di assolvere all'obbligo di istruzione o di acquisire un diploma attraverso un contratto di lavoro in apprendistato. Questa sera alle 21 presso il Salone Municipale di Bollengo la compagnia teatrale Sud Ovest di Pertugio presenta la nuova commedia dialettale di Rina Pomatto dal titolo Savenca Pia Pugna Luf. Ed ora la linea al nostro TG Amici Animali curato dalla collega Serenella Zedda in questa puntata, gli aggiornamenti sulla situazione della colonia felina di Piazza Olivetti a Lessolo e poi si parlerà di ricerca, gli appelli e molto altro. Ben ritrovati a tutti dal TG Amici Animali. Apriamo questa edizione con il servizio della collega Deborah Bocchiardo che è tornata a Lessolo, nelle Porediese, per fare il punto sulla situazione dei gatti della colonia felina di Piazza Olivetti. Purtroppo le notizie anche questa volta non sono buone. I gatti che sono rimasti nella colonia sono più o meno una decina, ma non solo. Anche gli altri dei quali si occupano i volontari hanno avuto dei problemi. Nei giorni scorsi c'è stato l'ennesimo episodio di intolleranza scoperto dai volontari che si occupano appunto dei superstiti. Noi cerchiamo di dare una mano a quei privati che si occupano degli animali in disagio, cosa che non fanno le amministrazioni che pure dovrebbero e che trovano, quando si rivolgono alle amministrazioni, trovano la porta chiusa o al massimo un atteggiamento di sufficienza. E così ci ha chiamato una signora segnalandoci una gatta di cui lei si prendeva cura e che era in stato di sofferenza. Loro abbiamo provveduto a portarla dal veterinario, noi andiamo quasi sempre da Elisa Quagliotti a Montalto d'Ora che ha seguito tutti i nostri cuccioletti randagini e dicendo di prendersene cura, dato che la signora era anche disponibile a sostenere le spese di sterilizzazione, abbiamo detto di procedere quando fosse restabilita. Ed è qui che durante l'intervento di sterilizzazione dall'addome sono saltati fuori due pallini. Abbiamo aspettato che la gatta finisse la convalescenza e poi l'abbiamo sottoposta a un esame radiologico e abbiamo trovato all'interno altri due pallini, uno conficcato in un polmone e l'altro in prossimità della spina dorsale. Quindi è difficile che si tratti di un incidente, quattro incidenti consecutivi senza contare quelli che sono andati a vuoto, sono un po' troppi. Adesso qual è l'impegno vostro come volontari per gestire la colonia? L'impegno nostro, adesso vorremmo terminare questa incombenza che ci siamo, ci eravamo assunti temporaneamente perché qui la colonia esiste da almeno 15 anni. Aveva cominciato a occuparsene l'allora presidente di Eporedia Animali, aveva cercato anche di avere da parte del comune un aiuto o comunque una sollecitazione trovando porte sbarrate, una grande ostilità comunità. Comune anni dopo aveva poi incaricato un'altra associazione di fare qualche sterilizzazione, la colonia era stata censita e mentre la signora che se ne occupava prima continuava ad alimentarlo. La signora ha lasciato poi la sua attività perché aveva subito un attentato dinamitardo e quindi si è trasferita. I gatti erano rimasti nell'indigenza, quindi noi ci eravamo assunti il compito di individuare chi doveva occuparsene, sollecitarlo a occuparsene e nel frattempo supplire, tamponare la situazione prendendocene cura a noi. Sono tre anni che siamo qui con l'aiuto di qualche cittadino sensibile e responsabile. Stando qui in piazza e aspettando di essere rimpiazzati abbiamo avuto modo di assistere a molti episodi di intolleranza. La situazione poi è diventata esplosiva da un paio d'anni quando la piazza è stata interessata da appetiti nell'edilizia e ambizioni politiche. Queste cose sono risultate per molti gatti fatali, molti sono morti, molti sono stati ammazzati, molti sono stati uccisi ed esposti come eloquente messaggio. e quando noi abbiamo denunciato a una giunta piuttosto sorda e svogliata i fatti abbiamo trovato poca sensibilità. Più sensibilità l'abbiamo avuta dalla stampa che è risultata molto attenta a questi fatti, però ci siamo anche fatti molti nemici. Infatti ci siamo guadagnati sul campo i galloni di presuntuosi, arroganti e anche terroristi. Comunque la nuova giunta sembrava fosse intenzionata a risolvere civilmente il problema. Gentilmente ci hanno invitati in comune proponendoci di collaborare al che noi abbiamo dato la nostra disponibilità facendo diverse cose. L'ultima che abbiamo fatto è stata trasmettere all'amministrazione le direttive regionali della Direzione Sanità al Dipartimento Salute Animale il 4 novembre dell'anno scorso, protocollo 3662. Dopodiché però non abbiamo più avuto alcun riscontro. Io penso che questo sia finalizzato a trasferire la colonia dalla piazza e fin qui va tutto bene. Stiamo a vedere se si tratterà di realizzare un rifugio come prevede la normativa temporanea per mettere in sicurezza questi gatti, se si tratta di deportarli in un recinto per fare un piacere a qualche privato amico o addirittura, visto i tempi che corrono, gli episodi che accadono, di farne un tiro a segno con bersagli viventi. Tutto dipenderà da chi prenderà l'appalto e da quanto saranno sensibili alla legalità gli amministratori. Ed insomma in questi ultimi due anni, come avete potuto sentire, i gatti della colonia felina di piazza Olivetti sono stati praticamente decimati da misteriosi incidenti. E proprio il giorno dopo la registrazione di questa intervista è arrivata l'ennesima notizia. Un altro gatto, questa volta con una zampetta rotta. Davvero è difficile credere che si tratti di coincidenze. E non c'è stata ancora nessuna segnalazione per quello che riguarda il caso dei due cagnolini attorno ai 30-40 giorni che sono stati uccisi brutalmente, buttati giù da un muraglione in un canale secco in frazione Campore a Cornie. Nonostante il nostro appello sia sulla pagina Facebook sia durante il nostro telegiornale, nessuno ha segnalato eventuali dubbi. Quindi non si sa chi possa avere commesso questo, soprattutto non si sa ovviamente chi possa ancora avere con sé la mamma di questi cagnolini che magari tra qualche mese avrà la stessa sorte, metterà al mondo altre creature che verranno di nuovo e brutalmente ucciso. Insomma, nonostante lo sdegno che la notizia ha provocato anche nei commenti sulla nostra pagina Facebook e non solo, nessuno si è ancora messo una mano sul cuore e ha deciso di dire ciò che sa o che ciò che magari anche soltanto sospetta. Noi però non vogliamo perdere le speranze e speriamo che non vinca anche questa volta l'omertà. E allora vi invitiamo, se sapete qualcosa, se avete anche soltanto un dubbio, a scriverci anche in forma anonima. Vi garantiamo l'anonimato in ogni caso. Scriveteci alla nostra mail che è redazione chiocciola.tg.amicianimali.it. Lo dobbiamo a queste due povere creature massacrate, lo dobbiamo alla loro mamma che appunto tra qualche mese magari avrà di nuovo un'esperienza di questo genere e le saranno strappati i suoi piccolini. E lo dobbiamo a noi stessi perché davvero non è giusto che ancora una volta vinca la paura, vinca l'omertà. Non tutti sanno che a Bustorsizio, in provincia di Milano, è in corso il tentativo di creare un nuovo stabulario dove sarà effettuata la sperimentazione animale. Questo su richiesta dell'Università in Subria. Tutto questo utilizzando anche soldi pubblici. Sabato 24 di gennaio proprio qui ci sarà un corteo di protesta che partirà alle 14 dalla stazione della cittadina. Una manifestazione questa che nasce dall'incontro che si era svolto il 15 aprile scorso tra l'Associazione Animalisti Onlus e l'Università stessa. Un incontro durante il quale l'Associazione propose una collaborazione per attuare delle alternative alla sperimentazione animale. Ma dopo la richiesta di atti al Comune e alla Università in Subria, quest'ultima aveva dato di niego avanzando la difesa della privacy. Il Comune di Bustorsizio invece c'è da dire e questo gli fa onore, viceversa ha accettato la richiesta. Un plauso davvero a questa amministrazione coraggiosa e anche per la sua sensibilità dimostrata nel confronto degli animali. Durante la conferenza che seguirà al corteo ci sarà anche un momento in cui saranno rivelati i contenuti sorprendenti dei documenti che l'Università ha dovuto consegnare all'Associazione Animalisti Onlus su richiesta. Sarà sottolineata l'incongruenza degli stessi ricercatori dell'Università che in ambito pubblico e politico negano l'esistenza di metodi di ricerca alternativi, mentre in ambiti scientifici dove ovviamente non possono negarlo affermano di conoscerlo. La manifestazione prevede come dicevamo prima un corteo e poi un comizio in piazza San Giovanni. Ci saremo anche noi con il Tg Amici Animali per documentare questa giornata. I metodi alternativi alla sperimentazione animale esistono, prova ne è anche il bando emesso proprio pochi giorni fa da iCare che prevede l'assegnazione di quattro assegni a favore di chi non sperimenta su animali e che consentirà quindi a singoli ricercatori oppure a gruppi di ricerca di ottenere dei finanziamenti per i loro progetti. Sempre a patto, ricordiamo che questi non siano più basati sulla sperimentazione animale. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 30 di marzo di quest'anno. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata a iCare Europe Onlus via degli Alberi 100 22070 Fenegrò Como, inviata mezzo raccomandata con avviso di ritorno, come dicevamo, non oltre il 30 marzo. Si possono richiedere ulteriori informazioni alla mail info chiocciola iCare-altoitalia.org Vi avevamo annunciato nella prima puntata di quest'anno del nostro Tg Animali le novità che ci riguardano. La prima l'avete vista, la sigla e poi lo studio nuovo, ma non soltanto queste. Da questa settimana infatti il Tg Amici Animali, nato tre anni fa su Rete Canavese, andrà in onda anche su altre tre emittenti del nostro gruppo che sono visibili in Piemonte e anche in Valle d'Aosta. Precisamente su Studio Nord il canale 185 tutti mercoledì alle 12.15 e tutti i sabati alle 19.15. Su Rete San Vensan tutti i lunedì alle 18.45, tutti i martedì alle 12.30. Su Teletorino poi tutti i lunedì alle 12.25 e tutti i venerdì alle 20.15. Oltre ovviamente a continuare a andare in onda su Rete Canavese nei consueti orari. Per chi ancora non ci conosce, Tg Amici Animali propone servizi, appelli e appuntamenti dedicati ovviamente al mondo animale. Ospita al suo interno anche appelli di varie associazioni animaliste, di canili, di gattili che possono inviarle all'indirizzo redazione chiocciola tgamicianimali.it. Se volete che gli appelli, questo anche per i privati ovviamente, vadano in onda anche all'interno del Tg Amici Animali e non soltanto sulla nostra pagina Facebook, è importante inviare la mail. Una mail completa con una o più foto, possibilmente in alta risoluzione, ovviamente i dati del cane, del gatto, dell'animale che volete far adottare oppure che avete perso o che avete trovato e poi i vostri dati, oltre ovviamente alla zona di riferimento. Dati, importante, importantissimo, un recapito telefonico, con la mail autorizzate la messa in onda del vostro recapito telefonico. Senza la mail, attenzione, noi potremo inserire i vostri appelli soltanto sulla nostra pagina Facebook. Ambra è un bracco femmina ed è di taglia media, è una cagnetta da caccia che non era brava per cacciare. Allora è finita in un canile lager della Lombardia. Adesso invece si trova in Piemonte. Prima aveva davvero tanta paura, tremava, stava tutto il giorno in un angolo. Adesso ha cominciato a fidarsi delle persone. È nata nel 2012, è sana, vaccinata, cippata ed è l'esmania negativa. Sarà affidabile in tutto il nord Italia. Per informazioni su di lei si può chiamare il numero 339 83 80 232 oppure 338 622 62 80. Questi cuccioli sono figli di una femmina di cane pastore di taglia medio-grande. Sono tutti maschietti e si trovano nel biellese. Saranno affidati dopo lo svezzamento, vaccinazione e applicazione del microchip previa visita di preaffido presso la famiglia adottante. Per info e adozioni il numero è 348 74 53 808. Pancio è un pappagallo ed è stato smarrito a Zubiena nella provincia di Biella. È circa 35 centimetri di lunghezza, è verde con la testa gialla, ali e coda rosse e blu. Pancio non si fa avvicinare, però risponde al suo nome con un sonoro. Ciao, attenzione perché becca. Chiunque lo trovasse o lo avesse visto o lo vedesse può chiamare il 347 14 86 843. 3. 2 4 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 11 13 14